L'Ectus sta per iniziare. Dal 2 all'8 ottobre a Teramo si consumerà un rito collettivo, la riconquista di uno spazio, quello della città spogliata, che utilizzerà la lettura e la conoscenza per esorcizzare la paura. Sono già centinaia i cittadini di tutte le età e di ogni professione che leggeranno brani tra i più svariati, dalla letteratura alla poesia, ma anche favole o documenti di politica e informazione, un esperimento culturale che sta creando grande attesa in città. La città ha risposto non bene, benissimo, anzi ci sta mettendo in serie difficoltà perché coordinare centinaia e centinaia di lettori, non solo Teramani, ma che vengono da Pescara, da Ascoli, non è stata cosa facile. Chi si è iscritto a leggere? Si sono scritti più o meno tutti, proprio dalla casalinga, al meccanico, al muratore, l'avvocato, l'ingegnere, l'architetto, il popolo, la cittadinanza. Noi siamo partiti da un'idea, l'idea è piaciuta, è stata sposata. Cosa si leggerà? Ah, questa sì che è una domanda interessante. Allora, noi leggiamo lo scibile, lo scibile attraverso sia i libri, sia le riviste, sia documentazioni, carteggi, dichiarazione alla Camera, dichiarazione al Senato. Le location le avete già individuate? Sono 23, sono 23. Qui dove siamo adesso è la location per eccellenza perché è la polis. Poi abbiamo il Duomo, dopo 400 anni andiamo nel chiosto del Vescovo, davanti alla prefettura, nel ristorante San Matteo e no gastronomia, la biblioteca delfica ovviamente che è la madre di tutte le location. Vogliamo ricordare i giorni? Dal 2 all'8, ottobre, dal carcere 2, 3 e 4 nei luoghi al chiuso, dopodiché 5, 6, 7, 8 per finire all'ipogeo questa grande kermesse notturna.